Jumanji, benvenuti nella giungla, scena 7, peak 1 Oh, ma che bravo il nostro regista che si ricorda i titoli di film Allora, bentornati sul canale di Insanity Boys Aggiungiamo le lettere, allora, bentornati sul canale di Insanity Boys Oggi siamo qui con una recensione del film Jumanji, benvenuti in questa cazzo di giungla Ovvero, alla fine, Jumanji 2 sarebbe Sì, una specie di sequel Sì, dai, sequel pericolo, no, sequel reboot, dai Allora, siamo andati a vedere lo sabato Io direi di partire subito dicendo che è un film divertente Che intrattiene Siamo andati in sala, penso di parlare anche per te Dicendo che siamo andati in sala non aspettandoci il film della vita No, assolutamente no E soprattutto con una totale leggerezza Non è che vai tipo quando siamo andati a vedere Dunkirk Che lì guardavi i tagli, la regia, il montaggio, il sonoro La fotografia Sì, qua, nel senso, andavi con tanta tranquillità e con tanta leggerezza giusto per vedere un film Alla fine delle vacanze natalizie, giusto? Bravo Esatto Allora, entrando più nel dettaglio, parlando degli attori, chi abbiamo in questo film? Abbiamo, vabbè, protagonista Abbiamo The Rock, Dwayne Johnson, che è questo film interpreta l'autore Smulder Brankston Che, quando è prima di interno in gioco, il personaggio è l'avatar di Spencer, per dire Allora, The Rock, questo film, fa il The Rock, nel senso, è cazzuto Cazzuto quando deve essere Sì, allora, ecco, voglio dire, secondo me, io lo reputo questo il miglior film di The Rock Nel senso, il film dove The Rock recita meglio Perché deve fare se stesso, cioè un armadio quattroante Ma allo stesso tempo è l'avatar di Spencer, quindi è un ragazzo timido Chiuso, introverso Chiuso in se stesso Che ha paura di rapportarsi con le donne, con le ragazze Un po' nerd, anzi, non un po' nerd, nerd, diciamo E anche un po' nerd, se vogliamo Quindi io, comunque, un The Rock che Diciamo, questo film era proprio il suo film Dove poteva spaziare, perché comunque era protagonista Era il capo del, il capo comunque il più strong del gruppo Comunque un The Rock che fa ridere E tanto, anche comunque Cioè, trovava i tempi comici giusti e riusciva a trovare una bella alchimia Soprattutto con Karen Gillan Che è la Martha, l'avatar di Martha, Ruby Randaus Che ecco, mi collego subito, così parlo subito sull'altro attore Che è Karen Gillan Appunto, Ruby Randaus, la macchia a uomini in Martha Sì, Martha, Martha, l'avatar di Martha Anche lei praticamente, il Spencer al femminile Perché anche lei era introversa, depressa, mi taglio le vene No, taglio le vene no Però, nel senso, era un po' Cerca di evitare Sì, i contatti con le persone Ecco, un'alchimia particolare tra Karen e Dwayne Dwayne, Johnston, The Rock Soprattutto quando c'è la scena del primo bacio Che c'è come nei giovani che si danno il primo bacio Il fatto che non sanno come si fa C'è un po' di imbarazzo Anche quella scena lì tra The Rock Che penso che nella vita se ne sia Tampate meno mille E comunque una Karen Gillan Che penso abbia avuto il suo Se non voglio entrare nei dettagli Ma penso abbia avuto i suoi rapporti Insomma Basta parlare di che Comunque Di ben personaggi, ben costruiti Esatto E raccontati bene Che comunque Ben caratterizzati Cioè, mi piaceva il fatto che erano due personaggi Che nella Due avatar che nella vita reale Ovvero, ribadendo Spencer e Martha Erano l'opposto Esatto Poi abbiamo Kevin Hart Kevin Hart Ovvero, Moose Finbar L'avatar di Fridge Fridge è il cyborg di Justice League Ecco Allora, Kevin Hart era in questo film Una delle poche sicurezze Nel senso che era abbastanza logico Che uno, le battute Il personaggio che era la più battuta Era il suo È un Kevin Hart Che si conferma Uno dei migliori intrattenitori È uno dei più bravi attori In termini di tempi comici In questo momento In circolazione Anche lui È un avatar perfetto Ovvero Esattamente l'opposto Cioè Era l'unico Che comunque Il colore della peria Rimaneva quello Più o meno Però diciamo Spencer era così E Moose Finbar Era così Nel senso C'è una netta differenza Di altezza A quanto pare Non di lunghezza Perché si vanta comunque Che qualcosa L'ha portato Nella giungla Dalla vita reale Quindi Kevin Hart Bravo Complimenti Si conferma Un ottimo attore Secondo me però Kevin Hart Fa la solita parte Da Kevin Hart Sì È vero Fa Il cattolo Sì Esatto Fa quello che Porta lo zaino Nel film Che non ha armi Quando mangia la torta Esplode Nel senso Si Fa la solita parte Da Kevin Hart Come Da Rock Fa sempre parte Da Da Rock Nel senso Sono due attori Diciamo Troppo Come dire Non contestualizzati Ma nel senso Io non me lo immagino mai Da Rock Vedere un film drammatico O Kevin Hart È protagonista Di infilazione Me lo vedo difficile Quindi sono attori Che comunque Quando fanno Quei voli lì Ci riescono bene E poi Jack Black È tornato Jack Black Trattato Jack Black Penso da Scuro Fa Roc No Comunque Jack Black Che in questo film Interpretava Il professor Shelley Shelley Oberon Shelley No Shelley No Shelley Oberon Che era L'avatar di Bethany L'unico Avatar Che era Esattamente Il stesso Opposto Io qua Mi azzardo A parte Che penso Che sia Indiscutibile Che Jack Black Era Stato il migliore Del film Secondo me Era anche Due spanne Sopra gli altri Perché Oltre a fare Un avatar Come facevano tutti Lui però Doveva fare L'avatar Di una donna Quindi Doveva anche Fare il ruolo Un po' Da Effeminato Mi parla Esatto Da Babak Esatto Da Babak No Doveva fare il ruolo Da donna Che questo film Mi riesce bene E Una Una Proprio una Donna Nel senso Bethany Nel film Era la classica 2000 di adesso Che Continua a farci Le foto Nel senso Che fa le pose Da E Mette i post E tutte queste cose qua Quindi Doveva Interpretare Un uomo Sovrappeso Che però Doveva fare La donna Che sapeva tutto Di moda Su dei ragazzi Di come atteggiarsi Con i ragazzi Infatti In una scena Aiuta anche Aiuta anche Ruby Randaus Ovvero Marta A A provare A fare La figa Esatto Che non ci riesce Benissimo Allora Quindi Cosa dire di questo film Film Che ha i suoi difetti Nonostante sia un film Molto divertente Cioè difetti Risponde al nome di Bobby Cannavale Ovvero Russell Scusa Russell Russell Van Pelt Il nemico del film Un personaggio Totalmente inutile Adesso io vi chiedo A voi Vi do 10 secondi di tempo Per dirmi In questo film Se Il cattivo Non c'era Ovvero Il Russell Van Pelt Non c'era A cosa serviva Cioè La differenza Se c'era Non c'era Bene Niente Esatto Avete risposto Giusto Non serviva a niente Perché nella scena finale Lui Il cattivo Non ha servito a niente Non ha neanche Messo in difficoltà Ine Penso è stato L'unico film Dove Il piano Che avevo in testa È andato Perché di solito Qua in un film I buoni fanno un piano Va sempre a monte Al primo minuto Invece qua Il piano è tutto a posto A parte due cose Ma È andato tutto liscio Come l'olio Il The Rock Che non si ricordava Una cosa Che il guidatore Della G Mi aveva detto 26 volte Ovvero di capitare Giumanji Quando metti Lo smeraldo Nell'occhio del jaguaro Un film Comunque Come ho detto Molto 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 divertente Con attenzione Un Nick Jonas È ancora vivo È ancora vivo I fratelli Jonas Sono dopo Cake by the Ocean Di quell'altro E adesso c'è Nick Jonas Che fa Che devo dire Che Non fa una brutta parte Fa una parte interessante Sì Della alla fine Uno che era entrato nel gioco Nel 96 L'anno di uscita Di Di Jumanji Il primo L'originale Che comunque Fa Tutti scherzi Sì Fa il suo compitino Nel senso Dopo Tutti che hanno detto Soup Tutti che hanno Erano Prevenuti Nel Vedere Dunkirk Perché c'era Harry Styles Di One Direction Che schifo Canteranno Durante il film Invece Harry Styles È stato uno Di migliori del film Adesso Nick Jonas C'erano tanti Critiche su di lui Perché comunque Senza vedere il film Su di lui Invece Comunque Ha interpretato Il suo ruolo Fatto bene Un appunto Che devo dire Al film Questa è una cosa Un po' personale Mi ha fatto Mi ha dispiaciuto Il fatto Che aveva pochi Rimandi Al Jumanji Originale Cioè Gli unici Due o tre Sì Allora Detti proprio Che sono veramente pochi Gli unici rimandi Sono Il fatto che La casa Dove viveva Alex Ovvero Nick Jonas Era costruita Da Alan Parrish Ovvero Robbie Williams In Jumanji Il fatto che All'inizio La prima scena Nel film Di Jumanji Questo Jumanji Qua Benvenuti nella giungla Era L'ultima scena Il primo Ovvero La sabbia Il gioco La sabbia Che in questo In questo Vennerete votato Da un uomo Un ragazzo Un ragazzo Un ragazzo Sì Che in questo In questo Che invece Nel Jumanji Originale Vennerete Ritrottato Da due ragazzi Vabbè Quindi Come ha detto Cioè Il voto Che do a questo film È Sette più Già il voto Sì Perché alla fine Cosa bisogna dire Di questo film Per la millesima volta Ridigo Che questo film È molto divertente Diciamo Molto più bella La prima parte Che la seconda Molto più interessante I The Rock Kevin Hart Ken Gillan E Jack Black Interagiscono molto bene Insieme Come personaggi Comunque Riescono a trovare Una bella alchimia L'unica cosa È Quello che ritrova Il gioco All'inizio Non si capisce Che finire A fare il film Perché Perché scusa Cioè Potrebbe essere Ragazzi Quello Sì Ma non Non te lo Diccio Non te lo Puttano Proprio Tu Tu Indovini Se te lo Dicessero Erano le persone Più distratte Il 2099 Che non Guardano il film Cioè Se loro Magari Ti Facevano Un flashback O un Ragazzi Quello lì Che mette il gioco Lì Che comincia a giocare È Nick Jonas Sì Lo so Ma Alle persone Più distratte Questa cosa Sfugge Se magari Ti facciano vedere Un flashback Potrebbe essere utile Beh Secondo me No Perché comunque È un film Alla fine Ragazzi È un film Semplice Sì È un film Molto Molto Semplice Molto Molto Leggero Un'altra Cosa Ecco Giusto Allungare Un po' Di più Il video Mi piace Il fatto Che Si vede che è un gioco Ovvero i personaggi Ripetono Sempre le stesse cose Perché C'è la grande differenza Che nel Jumanji Quello Insomma È il primo Il vero Jumanji La giungla Usciva fuori dal gioco Invece In questo film Sono i personaggi Sono loro Che vanno verso la giungla Sì Che evitavano Questo videogioco Quando vanno In Stato di castigo Vanno in punizione Ognuno Per motivi diversi A parte A parte Spencer Refrigia Che rimane La stessa situazione L'ultima cosa Che c'è da dire Che comunque Quando è uscito Cioè Quando c'è stato L'annuncio Di Jumanji Sì E il trailer Il trailer Tante critiche Tutte Ma alla fine Sì Gran commercialata Fatta bene Sì Fa il suo compitino È divertente Si porta a casa Un sacco di soldi Sì Assolutamente Primo nel box office In tutto il mondo In questo momento E comunque È riuscito bene È riuscito bene In tutto Eh sì Quindi Il francese Imperfetto Esatto Bravo Quindi Dato che hanno Hanno Detto che Vogliono fare Anche il sequel Di questo film Perché in una scena Di coda Non posso Di niente Andatevi a vederla Andatevi Andatevi a vederla Lasciamo perdere Quindi mettete un bel mi piace Iscrivetevi Condividete E E Diffidate Dalle imitazioni Bravissimo E anche State attenti Perché Perché La Land vince un altro Oscar Quest'anno Così Esatto 3 2 1 Di lì Dove di lì? In fondo Ok Ok